Dopo la pausa festiva la riapertura delle scuole e la ripresa lavorativa è stata contrassegnata da un fenomeno climatico estremamente pericoloso, le gelate notturne. Strade di ghiaccio quindi dopo le nevicate di ieri nell'entroterra. La scorsa notte nelle prime ore della mattina ci sono stati vari incidenti stradali di non grave entità a causa del ghiaccio appunto con automezzi finiti fuoristrada o intraversati e cadute di ciclisti e studenti in motorino, in particolare nelle province di Ancona con varie persone arrivate al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette e di Pesaro Urbino con diversi incidenti. Sulla statale 16 alle porte di Pesaro nei pressi dell'istituto alberghiero Santa Marta due auto si sono scontrate, ferite due ragazze, una romena e una di Pesaro che sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale pesarese. Procedendo in cronologia poi sempre nelle prime ore del giorno sulla Fano Grosseto all'altezza di Lucrezia un camion e un'auto che procedevano nella stessa corsia di marcia si sono urtati. Alle 7 e 15 sulla strada provinciale mondaviese nei pressi di Santa Maria una donna di 51 anni ha perso il controllo della sua Fiat Panda che ha distrutto dopo essersi cappottata uscendo fuoristrada in una doppia curva. I sanitari del 118 l'hanno trasportata all'ospedale di Fano ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Alle 8 invece scontro frontale a San Lazzaro di Fano tra due auto una Citroen che ha invaso la corsia opposta a causa dell'asfalto scivoloso che si è scontrata con una lancia Y. Notevoli i danni alle autovetture alla cui guida erano due donne entrambe trasportate al Santa Croce in condizioni non gravi dai sanitari a corsi sul luogo. Alle 9 sul ponte di Centinarola sempre a Fano sono stati ben quattro i mezzi coinvolti in una carambola sempre a causa del ghiaccio sulla sede stradale. Due furgoni e due auto che si sono scontrate dopo aver perso il controllo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Fano. Accorato appello da parte delle forze dell'ordine in queste ore a tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione nelle prime ore del mattino alle condizioni di aderenza dell'asfalto a causa delle possibili gelate nelle ore notturne.